voglio mostrarvi una furberia che ci permetterà di luttare e ottenere qualsiasi materiale all'infinito sì avete capito bene all'infinito è estremamente difficile riuscire a forgiare le cose motivo per cui dopo guardate 43 giorni non posso ancora forgiare e l'unico modo che ho per avere i lingotti di metallo e ferro è appunto andare a luttare e cosa ho scoperto mi sono accorto che le missioni per mantenere sempre lo stesso standard di difficoltà vanno a ripristinare una struttura che è oggetto della missione nel senso che se noi abbiamo costruito un'impalcatura se noi abbiamo rotto dei muri per avere un accesso facile se abbiamo distrutto qualcosa o se abbiamo luttato lo start della missione andrà a resettare tutto e quindi avete già capito qual è la furberia quello che ho fatto fino adesso è stato semplicemente luttare e ripulire tutto quello che mi serviva soprattutto andare con la chiave inglese a raccogliere chi è a raccogliere tutto il metallo i lingotti che mi servivano poi attivavo la missione e rifacevo di uno tutto da capo quindi andavo a luttare due volte tutte le ceste ad esempio mi sono però accorto di una cosa perché farlo solo due volte quando possiamo farlo all'infinito il modo per farlo all'infinito è semplicemente uscire e rientrare dalla partita senza concludere la missione quindi vediamo un pochettino attiviamo la missione adesso ha ripristinato eventuali cambiamenti per esempio mi ha riempito di nuovo la macchina mi ha ridato tutte le cose che avevo già preso vengo qua e posso luttare nuovamente la macchina prendo tutto già che ci sono la smonto io di solito non le smonto mai queste perché mi serve averle per poter continuare a luttare ma visto che poi verrà ripristinata che ce frega guardate che caterva di materiali facili facili in questa circostanza questa missione che c'è stata data dalla venditrice quella con le tettone per intenderci guardate che bello c'è un banchetto questa casa un banchetto da lavoro che la prima volta mi ha già dato lo chassi per la mini moto quindi davvero tanta roba lo apriamo luttiamo questo giro ci va proprio malissimo e poi non contenti sta passando un aereo dopo devo andare a intercettarlo dove 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 la buttata la cassa avrà buttata da quelle parti raggiù vabbè che ce frega che ce frega torniamo a noi torniamo a noi allora noi non contenti perché siamo infami ce lo smontiamo e guardate che spettacolo 11 11 17 me ne ha dati di lingotti di ferro facili facili l'ho fatto 3 4 volte sono già a 51 tenete conto che io ho spinto tantissimo l'abilità per l'operazione di salvataggio si chiama di recupero siamo 4 su 5 e poi anche 4 su 5 lo sciacallaggio che mi permette di ottenere un bottino un lute molto valido ovviamente non ci possiamo non è detto che ci dobbiamo fermare qui possiamo continuare a luttare tutto quello che vogliamo qua per esempio c'è una cassa e c'è anche un qui vicino in questo caso non c'è niente di che possiamo andare come ho già detto a luttare tutto quello che troviamo ovviamente ci sono anche i nemici da affrontare e anche quelli verranno poi ripristinati guarda questo dove è riuscito facciamoci fuori queste un pochettino quasi sono altre cose interessanti per esempio il frigorifero che ce ne proviamo e noi lo prendiamo lo prendiamo ci prendiamo il caffettino che è sempre comodo da bere poi ce lo smontiamo anche guardate quanto materiale easy acqua pulita non ha dato quella sozza ci smontiamo anche questo ci facciamo fuori questa anche questa qua che ci fanno le infermiere qui poi non lo so magari non è badanti di un vecchio qua c'è un po di roba la luttiamo buono buono questo qui altro caffè buonissimo altro cibo che è davvero difficile in questa versione di gioco è davvero difficile farmi il cibo e poi qua ovviamente smontiamo tutto ciò che vogliamo smontare vai col frigo vai col fornello vai con la bandina sto diventando un manutentore professionista va bene ipotizziamo di aver luttato tutta la casa ovviamente ci sarebbe ancora tanto da andare a prendere e che cosa facciamo arrivati a questo punto usciamo fuori anche questo da prendere usciamo fuori andiamo qui e usciamo dal gioco anzi no usciamo dalla partita ricaricata la partita come vediamo la missione è stata interrotta qui manca tutto quello che abbiamo tolto c'è sufficiente guardate riattivare la missione e ritornerà tutto esattamente come prima e quindi possiamo continuare frizzettino a luttare all'infinito ci smontiamo la macchina vediamo un pochettino cosa c'è qua di nuovo uno schifo lo smontiamo vediamo nella cassa qui niente come vedete è facile è semplice è sicuro in pochissimi minuti guardate che cosa non ho tirato su mi sono fatto 68 pezzi di lingotto 2000 di benzina un sacco di materiale anche due batterie mi ha tirato fuori la missione in questo caso è di livello 3 quindi bisogna aver finito già le prime missioni prima serie e la seconda serie di missione poi abbiamo questa qua ci troviamo in questa parte della mappa il venditore è questo qui anzi la venditrice ma in ogni caso come vi ho detto prima possiamo applicare questo stratagemma praticamente a qualsiasi missione e quando in una casa c'è qualcosa di interessante come in questo caso beh possiamo approfittarne l'unico limite che abbiamo in questa circostanza è che la nostra e il nostro utensile per smontare si consumerà non potremo aggiustare con le cassettine per riparare e si trovano abbastanza facilmente devo dire comunque si possono anche craftare con un lingotto e tenendo conto che ne abbiamo già una cinquantina capite quanto è facile andare avanti comunque all'infinito per ripararli beh semplicemente semplicemente ci craftiamo questa cassettina qua ecco cassettina degli attrezzi come vedete chiede un lingotto e un pezzo di nastro adesivo non è assolutamente un problema ed è estremamente facile adesso craftarsene anche perché queste ci servono un po per tutto e tutte le armi di metallo i picconi e via dicendo e stavo dimenticando ad esempio questa casa dall'altra parte alla buca delle lettere e questa è fantastica per farmare le riviste molto molto importanti guardate quante batterie vabbè io vi posso solo augurare un buon farming magari di lasciare un like